L'eco di Acquaviva in Edicola in questo giovedì, in questo 17 marzo, un saluto a voi tutti, cari amiche e cari amici che seguite Telemaig, quindi l'appuntamento con il telegiornale Maig Notizie. La nostra informazione attraverso l'emittente televisiva e attraverso anche il cartaceo, attraverso questo settimanale che da poco ha compiuto i dieci anni di pubblicazioni e prossimamente vedremo come sarà possibile insieme a tutti voi festeggiare questo appuntamento, questo anniversario. La prima pagina dell'eco di Acquaviva da sostenitori di tutti a promotori di pochi, la politica che confonde i cittadini consumatori. Adesso vedremo qualche articolo pubblicato nel settimanale e di questa prima pagina abbiamo voluto mettere in risalto in questa prima pagina la strada che gli automobilisti provenienti da Santeramo o dall'ospedale Miulli sono costretti a percorrere e che in molti casi, in diversi casi, in alcuni casi, selezionate voi la frase che più ritenete giusta, alcuni automobilisti sono usciti fuori strada. dall'altra parte invece via Francesco Pepe sul lato destro della prima pagina, una bella fotografia che è stata pubblicata su Facebook e quindi ha dimostrazione che i cittadini sono attenti alla cosa pubblica e quindi vogliono collaborare anche attraverso una semplice fotografia alla cosa pubblica e in questo caso mettendo in evidenza i lavori che si stanno eseguendo e che evidentemente bisognava, si sarebbe dovuto affrontare l'argomento lavori nel centro storico, in questo caso in via Francesco Pepe, in maniera diversa, ponendo al primo posto i residenti e di conseguenza dopo i lavori. Vivere in una società che rispetta l'uomo, l'essere umano prima di tutto, significa mettere al centro il cittadino, significa mettere al centro l'essere umano e non il contrario e quindi nel momento in cui si prepara un mando, nel momento in cui si fa la selezione dell'azienda che deve fare i lavori, bisogna impostare il tutto mettendo al primo posto l'essere umano, il cittadino. Sì perché paga le tasse, sì perché risiede in questa comunità, sì perché risiede nel luogo in cui saranno eseguite le opere, ma soprattutto perché una società che si rispetti e si possa definire tale, indipendentemente se di religione cristiana, musulmana e chi più ne ha più ne metta, l'essere umano in quanto persona al centro di tutto, al primo posto e vivremo meglio, faremo degli appalti più belli e non saremo costretti a fare fotografie in quanto cittadini, in quanto residenti per metterne in risalto una situazione di cui già saremmo a conoscenza, di cui già avremmo compartecipato, in cui già avremmo detto la nostra, in cui già avremmo saputo quando sarebbero iniziati i lavori, come si sarebbero organizzati i lavori e quando, a che ora e qualsiasi cosa che riguardava la mia vita. Invece no, non si mette al primo posto l'essere umano, la vita dei cittadini, ma altro. Magari amiche e amici diventa più importante se piove o meno e non se un cittadino è ammalato, se un cittadino è disabile, se un cittadino è anziano o se è un semplice, un naturale ragazzo o una semplice, una naturale ragazza che vuole uscire di casa in maniera tranquilla, senza preoccuparsi dove deve mettere i piedi e senza preoccuparsi che ha invitato, per esempio, a casa perché deve festeggiare l'onomastico, il compleanno a alcune amiche e alcuni amici che non riescono a raggiungerla o che raggiungendola dovranno utilizzare gli stivali. Ma c'è un'altra notizia rilevante, la festa del papà. Per chi ce l'ha è già festa, per chi non ce l'ha è un po' meno festa, ma comunque la festa del papà, il 19 marzo, un momento speciale di condivisione, di rispetto e di allegria in cui poter festeggiare il proprio papà e per chi ce l'ha se lo tenga stretto stretto, mettendo a primo posto, come abbiamo detto, la vita e l'essere umano e poi il dover andare a calcetto e poi il dover fare qualche altra disciplina sportiva e poi dover andare al lavoro, cercando di lasciare il più tempo possibile al papà. Delle mamme parleremo naturalmente quando ci sarà la ricorrenza, ma poi sappiamo che le mamme sono le regine della famiglia per cui sono sempre protagoniste, ma i papà che vivono un po' meno, la famiglia perché stanno fuori, perché nella nostra cultura adesso sta diminuendo questa usanza, questa situazione è cambiata, stanno meno a casa e in alcuni casi preferiscono magari anche andare al circolino e noi ci auguriamo però che anche andando al circolino, noi siamo nelle condizioni di non fargli mancare il nostro calore, che non è solamente un abbraccio, un bacio e una stretta di mano, ma noi ci siamo capiti che cosa significa onorare, come si suol dire, i genitori. E allora l'editoriale di questo settimanale del 17 marzo lo approfondiremo sabato prossimo. Abbiamo già detto del fare il proprio dovere e lo abbiamo guardato ieri quando abbiamo con la cartuccella che cantava, visto anche delle immagini, una festa di bontà e qualità, dolce trasgressione, il salotto in acqua viva delle fonti, l'amore non si spiega, si vive, un viaggio nella filosofia per comprendere l'amore, festa del papà, lo abbiamo già detto, una riflessione di Giovanni Antonio Mastrorocco, la Santa Pasqua con amore viviamola, il falò di Emanuele Petrelli in onore di San Giuseppe e quindi questa manifestazione si svolgerà sabato 19 e poi l'appuntamento all'ospedale Miulli. Nicola Baldassarre che con questo suo racconto intitolato L'ultracentenario raggiunge la foresta di Mercadante simpaticamente racconta questo incontro, questa passeggiata con i suoi amici che salutiamo e poi Mario Fina impegnato alla 6 ore di San Giuseppe di Putignano e alla fine la pagina riservata alla pubblicità e al nostro numero WhatsApp 348 811 0181, vi ricordiamo anche Facebook e le nostre mail e YouTube dove pubblichiamo tutti i filmati e quindi soffermiamoci guardando insieme le pagine 6 e 7 perché queste sono le vostre pagine e allora vediamo che non è colpa dell'amministrazione comunale se questo palo è stato rivelto o è la sua base è rimasta ancora pericolosamente impiantata in questo cemento dove puntualmente si inciampa. Via la corte che strada da favola scrive evidentemente qualche residente, a noi non interessa chi ci invia il messaggino, non ci interessa conoscere la persona che ci invia il messaggino o il WhatsApp ma il fatto e scrive solamente con la fantasia è possibile convincersi che dopo tante rotture, rotture sicuramente intende sia perché hanno eseguito i lavori a pochi passi e che quindi sono stati scocciati da questi lavori che durano dall'anno scorso, i residenti si ritrovano a una pavimentazione non da brivido ma da caduta e quest'altro cittadino ma è un argomento che coinvolge tutti i residenti di questo quartiere, dice buongiorno, sono un cittadino e contribuente di questa Acquaviva Bellissima. Ragazzi amministratori e meno ragazzi ci riferiamo ad Austagio Bustio e a Luca Di Napoli, vice sindaco il secondo e assessore il primo, non pensiate che ce le inventiamo noi queste cose, che scriviamo noi Acquaviva Bellissima, sono i cittadini e magari saranno anche colori quali che vi hanno votato e vi hanno individuato come amministratori e dicono che si ritrova davanti alla propria abitazione uno scempio, una sporcizia ed uno spreco di denaro pubblico che va fatto notare assolutamente e noi nel nostro piccolo lo abbiamo fatto. Abito sul prolungamento di via Tateo all'incrocio con viale della Repubblica ed ogni volta che piove mi ritrovo di fronte a un lago che rimane per settimane e quale occasione migliore la giornata di oggi? E che bel laghetto ci sarà là? E che bel laghetto che c'è dopo il ponte di via Santa Lucia? E' un laghetto che magari risale a 10 anni fa? A 5 anni fa? A 20 anni fa? Ma i cittadini che abitano lì, non importa nulla quando risalga il laghetto di Santa Lucia o quest'altra porcheria di via Tateo, gli importa perché questa amministrazione comunale che da tre anni è insediata a Palazzo dei Mari non è riuscita, non ha voluto, non ha potuto risolvere il problema? Il resto sono chiacchiere, le chiacchiere dei politici del passato che non possono essere ritrovate oggi sulla bocca dei nuovi amministratori, perché è un'offesa a loro, si offendono loro stessi, insomma è un danno alla loro intelligenza riportare queste frasi frutto della vecchia politica. E allora immaginate, dice questo lettore, quando farà un po' più caldo, quindi in estate che cosa succede là? Le zanzare ci andranno a nozze, aggiungiamo noi. Saremo mangiati dalle zanzare senza considerare tutta la sporcizia che ogni giorno entra nelle nostre case. Vi chiedo, per favore, vedete quanto sono educati i vostri amministrati, signori del governo cittadino, chiedono per favore, chiedono per favore, cioè addirittura chiedono per favore, quando invece è un loro diritto, ma lo chiedono per favore, perché sono così educati da dire per favore di mettere in evidenza questa situazione. Grazie. E noi lo facciamo per dovere, quello stesso dovere di cui abbiamo già parlato, che dovrebbe spingere gli amministratori di qualsiasi comunità a mettersi le mani nei capelli per chi ce li ha e risolvere i problemi, condividendo quei pochi o tanti capelli che si hanno con l'elettorato in ogni momento, nel momento bello e nel momento cattivo. Centro storico ci lasciano anche i regali sparsi, se qualcuno si permette di fare ironia, su ciò lo prendo, noi pensavamo a schiaffi, no a carezze e sarà cattolico, se lo prende a carezze, perché c'è chi invece direbbe a schiaffi. Via Nicola Capozzo, strada rotta e né turbini che non esistono, nel senso che non spazzano quella strada, ma sappiamo bene che se il comune non sgancia i soldini non si possono pagare gli operatori ecologici, in più che possano fare pulizia anche in via Nicola Capozzo. Non serve il commento alle foto che vi mando, questo è l'asfalto, il ripristino, non so come chiamarlo, anche tramite Facebook e mail giungono i vostri messaggi. Ecco, soffermiamoci su questi funghi, perché questo nostro birichino lettore si prende pure la pizzicata e guardate un po', dice vorrei chiedervi, direttore, lei i funghi li mangia? Ecco, mi chiede se io i funghi li mangio, è certo che li mangio, ma non vado a mangiare i funghi di piazza Vittorio Emanuele o di piazza Garibaldi o non so di quale altra strada, spero che nessuno li mangi questi funghi perché non sappiamo la genuinità, la bontà. Lui dice dal video di qualche giorno fa ad oggi sono cresciuti, che è una meraviglia, questi funghi ad acqua viva delle fonti, sbrigatevi a venire, ce n'è per tutti e gratuitamente, una provocazione naturalmente. Guardate cosa sta combinando il cane, rifiuti dappertutto, non è certo colpa sua, dicono, è curioso, il lettore dice il cane è curioso, vede queste buste per terra e che fa? Apre le buste, le annusa, magari cerca qualcosa da spolpare, da mangiare, forse è colpa del suo padrone che lo ha lasciato libero, è colpa dei cassonetti aperti, è colpa di chi lascia i rifiuti per terra. E veniamo a via Francesco Pepe. Sono stati apposti dei segnali di vieto di sosta delle auto dalle ore 7 alle ore 17. Fino a quando i lavori che si stanno eseguendo dal Civico 1 all'incrocio con via Supriani saranno conclusi, dice il cartello e dice il nostro lettore, si dà il caso che il camion della ditta che esegue i lavori impedisce anche che le auto provenienti da piazza Jacobellis possano immettersi su via Francesco Pepe. Di fatto più che un divieto di sosta risulta essere un divieto di transito su tutta via Francesco Pepe. Ma ciò non è segnalato da nessuna parte, per cui le auto che imboccano piazza Jacobellis sono costretti a tornare indietro in retromarcia con il rischio di incidenti. Centro storico, strade strette. Inoltre chi è costretto a transitare in via Francesco Pepe lo deve fare controsenso, con grave rischio di incidenti sulla curva all'altezza del Civico 70. Questo nostro lettore si è preso pure la briga, quindi si è impegnato anche a riportare i numeri civici. È possibile far sì che non ci sia l'anarchia più completa in questa città? Un pensierino. Qual è il significato di mettere le chianche di pietra, così dicono si stia facendo, solo per un piccolo tratto di via Francesco Pepe, quando tutti i cittadini dell'intera zona, con una petizione popolare, hanno chiesto all'amministrazione di tirare fuori le chianche dell'intera via, una delle strade più importanti dell'intero centro storico, o antico che dir si voglia. Ebbene, concludiamo quindi questo nostro appuntamento con nuove fotografie. Sì, sono nuove. Non le hanno pubblicate ancora sull'Eco, perché sono fresche e fresche, sono uggiose e uggiose, sono bagnate queste fotografie. E sono del nuovo asfalto di via per Sant'Eramo, del tratto che va all'incirca dal ponte di Santa Lucia alla provinciale. E allora c'è l'area riservata a chi vuole collaudare le proprie scarpette e quindi rendersi conto se sono ben fatte e non entri acqua dentro. C'è chi invece esce in pantoffole o con scarpette più leggere e ha il suo asfalto preferenziale dove non c'è il laghetto, non c'è la pozzanghera. L'acqua? Come si può? Abbiamo l'acqua di sinistra e l'acqua viva, abbiamo l'asfalto fascia sinistra, l'asfalto fascia destra. Al centro vediamo che proprio non c'è nulla. Abbiamo l'asfalto fascia sinistra e l'asfalto fascia destra. Dalle fotografie si vede chiaramente cosa succede. Ora all'ufficio tecnico comunale di Acqua e delle Fonte, al dirigente, al vice, al sottovice, al primo e l'ultimo di questo ufficio tecnico, lavori pubblici, urbanistica, di più mettiamo tutti quanti. All'assessore competente, ce ne sono due, assessore urbanistica Bruno, assessore lavori pubblici Busto, mettiamo anche il vice sindaco, mettiamo anche il sindaco, lasciamo la cultura fuori. Ah e mettiamo anche l'assessore alla manutenzione delle strade, chi mienti, assessore alla manutenzione delle strade. Questa strada è stata fatta da voi, o è stata fatta dall'amministrazione Squiciarini, o è stata fatta dall'amministrazione Tria, o è stata fatta dall'amministrazione Pistilli, o è stata fatta dall'amministrazione D'Ambrosio, o è stata fatta dall'amministrazione Nettis, o è stata fatta dall'amministrazione Battista, un saluto a tutta la famiglia Battista, amministratore di altri tempi per intenderci, da chi è stata fatta questa strada? E allora amici cari, prima che qualcuno denunci la delibera, non appena sarà pubblicata, se è stata pubblicata la determina per il pagamento di quell'asfalto, io consiglierei a questi soggetti che oggi governano e all'ufficio tecnico di andare a farsi una visita su quella strada e a verificare puntualmente se l'asfalto corrisponde a quello inserito nel capitolato e se lavoro con le relative pendenze e anche le chiusure sotto al marciapiede e i mattoni che sono stati posati lì e messi quindi da poco, se il tutto corrisponde al capitolato. Se qualcosa non va, siccome cari amici ufficio tecnico e amministratori non avete nulla da spartire con l'azienda che ha eseguito i lavori, prendete carta e penna e trovate una soluzione, perché voi con l'azienda che esegue i lavori, che possono essere di illuminazione, di urbanistica, di lavori pubblici, di pulizia, con le aziende che eseguono i lavori, voi amministratori, ufficio tecnico e costruzione, non avete nulla da spartire, è chiaro, perché voi siete lì gli uni perché pagati dalle tasse degli acquavivesi e quindi dipendenti e gli altri perché eletti dal popolo, ma senz'altro per salvaguardare i cittadini, gli utenti, i consumatori, chi lì ci abita e chi paga le tasse e chi è cittadino perché così dice la Costituzione italiana, fino a quando non la modificheranno e la cambieranno, non avete nulla da spartire e allora se non avete nulla da spartire, 5 minuti di tempo tutti quanti insieme, andiamo a farci una passeggiata su quella strada e verifichiamo, capitolato alla mano, determinazioni alla mano, è stato fatto tutto in maniera regolare, dopodiché ci si stringe la mano e si va a prendere un caffè al bar con l'ombrello e con gli stivali perché altrimenti il bar più vicino si trova dall'altra parte del ponte di Santa Lucia e significa dover andare con gli stivali, significa dover andare con gli stivali e allora cari amministratori, oltre a pulire qualche piazzetta e da soli non siete capaci di farlo perché avete chiesto la collaborazione dei cittadini residenti in quelle piazzette e in quei quartieri, andatevi a fare una passeggiata sotto il ponte di Santa Lucia, a piedi, con stivali o senza stivali? Se qualcuno non ha gli stivali, sappiamo che c'è un'associazione che ne ha tanti di stivali perché mentre gli altri chiacchierano va a fare i sopralluoghi, va a fare le verifiche, va a rispondere alle segnalazioni che giungono dei cittadini e sempre più numerose, non perché aumentino i cittadini, perché i bimbi appena nati non si rendono ancora conto delle buche che si ritroveranno, quindi non è che è perché aumentano i cittadini, è da quella delle fonti che aumentano le segnalazioni, perché sono più le buche che si aprono delle buche che si chiudono, sono più le contravenzioni che si dovrebbero fare sui passi carrabili occupati, sugli scivoli per i disabili occupati, perché c'è un'assenza di un governo che tiene sotto controllo la città dal punto di vista politico e amministrativo e quando c'è l'assenza delle istituzioni viene fuori il malessere della città e vengono fuori i buontemponi di cui abbiamo parlato in passato, spuntano come quei funghi che sono stati immortalati dal nostro caro amico che a me fa la battuta direttore, lei i funghi li mangia e caro amico mio il problema non è se io mangio i funghi o meno, il problema è, ma è stata mai curata con l'aiola? E se è stata curata con l'aiola? Hanno seminato i funghi? Hanno curato il verde? Come hanno fatto a non accorgersi che c'erano quei funghi là? Quanto tempo ci vuole affinché crescano questi funghi? Ma questo ce lo può dire un agronomo, loro sono specializzati in questo settore, non certo noi giornalisti, ma il sindaco che è iscritto all'ordine sa benissimo in cosa sono specializzati i giornalisti, i pubblicisti e quindi adesso ricoprendo il ruolo di sindaco sa anche molto bene qual è il suo dovere e quali siano le sue responsabilità. Ben ritrovati cari amiche e cari amici, ritornate a seguirci con gli altri appuntamenti, sabato l'editoriale. Grazie a voi tutti. Grazie a tutti.